La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati con il nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Uno News. Andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, come sempre partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale, si parla del decreto sblocca Italia, ieri a Napoli, manifestazioni tra i manifestanti, anche l'amministrazione comunale di Napoli e non ci si limita alla semplice manifestazione, ma anche scontri, agenti feriti e tra questi anche un giornalista della RAI, ma vediamo il titolo per la prima pagina del mattino nazionale, scontri a Bagnoli, bufera sulla giunta, la protesta si trasforma in guerriglia, 20 agenti feriti, bambini assediati a città della scienza, al corteo contro lo sblocca Italia anche vice sindaco e assessori, accuse bipartisan, poi De Magistris prova a prenderne le distanze. Questo è l'articolo di apertura, che tratteremo anche nelle pagine di primo piano, ora vediamo gli articoli correlati, l'urbanista Folin, l'area deve diventare un grande polo turistico, per il commento una pagina nera per le istituzioni che isola la città. Ancora andiamo avanti nella fotonotizia, Napoli la nuova frontiera degli antagonisti italiani. Di spalla in alto il caso evasione, i segreti di Juncker, mentre a centro pagina si parla delle nuove tasse comuni, ecco la tassa unica, Renzi apre sui licenziamenti a Diotasi e addizionale IRPEF, ma non ci saranno sconti. Vediamo, il governo vuole introdurre la cosiddetta local tax dal 2015 e conta di approvare il provvedimento con la legge di stabilità che ha appena iniziato il suo iter parlamentare. La nuova tassa unica avrebbe solo un effetto semplificatore per i contribuenti, riunirebbe IMU, Tasi e altre imposte come IRPEF, pur non garantendo però comunque le riduzioni intanto va registrata. L'apertura di Renzi sui licenziamenti torna il reintegro per motivi disciplinari. Vediamo l'analisi, la lunga notte del centrodestra e per il punto di Bruno Vespa, perché è un blef l'asse PD Grillini. Di taglio basso, a Salerno, abuso d'ufficio, De Luca ha processo il progetto crescenti, il GUP rinvia a giudizio il primo cittadino di Salerno. Questa notizia sarà trattata ampiamente dal mattino di Salerno, ricordiamo proprio nella giornata dell'accensione dell'edizione 2014 della Kermess di Lucid Artista. Andiamo avanti, per lo sport invece le nuove frecce nell'arco di Benitez, non solo De Guzman, la vittoria in Coppa allarga anche il numero dei titolari. E il giallo omicidio Cucchi, nuova inchiesta. Questa è la prima pagina del mattino nazionale, come annunciato andiamo ora sulla pagina di primo piano. Si parla della manifestazione svoltasi ieri a Napoli contro il decreto sblocca Italia, divenuto ormai legge, vediamo la protesta e gli incidenti, no a sblocca Italia, scontri a Bagnoli, 20 agenti feriti, prima il corteo, poi la guerriglia urbana, strade presidiate, assalto finale alla polizia. La tensione sociale, 2 mila in corteo, polemiche per la presenza di assessori comunali e dai manifestanti colpi di mazze e lancio di sassi, le forze dell'ordine si sono difese con i lacrimogeni. Vediamo, ha incassato la fiducia del Senato, ma non quella della piazza. La protesta dilaga dopo Milano, Roma ed altre città, la mobilitazione contro lo sblocca Italia arriva a Napoli e il clima è di altissima tensione. I sanpietrini sono ammucchiati ai margini della strada, proprio di fronte all'ingresso di città della scienza, all'atomare ci sono le pietre, ma anche bastoni utilizzati da un gruppo di manifestanti. La partenza alle 10.30 dal piazzale Tecchio, il percorso non è lungo, ma ci sono 1500 persone circa. E alle 11.55 le prime avvisaglie, i petardi esplosi davanti all'ex sede di Bagnoli Futura, a Porto del Parco, alle 12.45 si scatena l'inferno. Per sedare gli animi, gli agenti sono costretti a utilizzare i lacrimogeni. Questo è il resoconto della mattinata di manifestazione a Napoli. Andiamo avanti, assediati contro città della scienza, paure e lacrime per 500 bambini, erano nei padiglioni della struttura, il fuggi-fuggi di centinaia di medici riuniti per un convegno. Lasciamo le pagine nazionali, ora andiamo sulle pagine del mattino di Salerno, si apre proprio con la notizia dell'inaugurazione della rassegna lucida artista a Salerno, ma anche con il rinvio a giudizio per il sindaco sempre di Salerno, Vincenzo De Luca. Vediamo il titolo, luci accese, l'ombra del processo De Luca rinviato a giudizio per il Crescent, mentre inaugura la Kermess Natalizia. Prima udienza il 23 dicembre, fiducia nei magistrati, sono sereno perché ho sempre agito nell'interesse della città. Sopre per la manifestazione lucida artista, l'ospite da Napoli, l'abbraccio a mamma Antonella per Ciro che vive. Ricordiamo, ieri era presente all'inaugurazione di lucida artista anche Antonella Leandri, madre di Ciro Esposito, il tifoso napoletano morto negli scontri a Roma in occasione della finale di Coppa Italia. Lasciamo questo argomento, lasciamo Salerno, andiamo ora a centropagina, dove invece ci dedichiamo all'agro nocerino sarnese, agro sott'acqua, allarme sarno, il maltempo, emergenza maltempo e raffiche di vento, disagi in tutto l'agro nocerino sarnese, registrati numerosi casi di alberi abbattuti dal vento che hanno generato paura e caos in diverse città. La cronaca, sempre a centropagina, quattro arresti della squadra mobile, stop a 20 kg di hashish per i pusher del by night. E ancora l'operazione furti di rame e autogang in autostrada. Le notizie di fondo, l'aeroporto Fasolino già rieletto presidente, sono durate meno di 24 ore le dimissioni di Antonio Fasolino da presidente della società consortile che guida l'aeroporto di Salerno, anche se più che di dimissioni vere e proprie, lo stesso Fasolino parla di restituzione del mandato a chi me lo ha conferito anni fa, ovvero al presidente della provincia di Salerno. Il passaggio di colore politico all'interno dell'ente provinciale ha fatto dunque da assista alla decisione di Fasolino, il cui gesto di garbo istituzionale non è passato inosservato agli occhi dell'attuale presidente Canfora. E l'ASL, il TAR, ai privati, l'assistenza domiciliare. Vediamo nella rubrica riflessioni di fondo le invenzioni anonime del nostro Evo. Mentre un ritaglio basso, vediamo come chiude questa prima pagina del mattino di Salerno, spunta un masso, no, è un tartufo gigante, un tartufo da record di quelli che proprio non ti aspetti di trovare quando ti inerpichi in montagna, se non nei sogni più reconditi e nelle speranze della ricerca. Invece un tartufo da record lo ha trovato Rocco Torsiello a Valva, in una località di montagna chiamata Rutun, per la presenza di un grosso masso rotondo enorme, 2,2 kg e 235 grammi. Questa è la prima pagina del mattino di Salerno, andiamo nelle pagine interne, occupiamoci proprio della Kermes, luci d'artista, vediamo che il mattino è di Campio Spazio, questo argomento questa mattina, vediamo il personaggio, luci accese senza festa, ma io sono sereno, la fiducia ho agito nell'interesse della città. Quindi il sindaco De Luca parla del rinvio a giudizio, vediamo il sindaco false attestazioni per sdemanializzare il sindaco Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, secondo il GUP De Luca è l'unico responsabile delle false attestazioni che riguardano la fase della sdemanializzazione dell'area dove poi è sorto il crescent e parla il soprintendente prima i permessi, poi l'urban center, ancora l'imprenditore agevolazione sui lavori senza gli oneri dovuti, questo è Eugenio Reinone e ancora gli assessori permessi illegittimi nel mirino 5 delibere. Andiamo di spalla la politica, summit coi fedelissimi, io ci metto la faccia. Di taglio basso invece l'intervento di Maurizio Gasparri che archivia la pratica, è solo un grande blef, il centrodestra a Gambatese, i salernitani devono sapere se sono stati commessi reati. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti, andiamo sulle pagine dedicate alle notizie provenienti dalla parte sud della provincia di Salerno, si apre con notizie di battipaglia eboli, vediamo la cronaca, auto e rame presa la gang, questo è il titolo di apertura su questa pagina, la Polstrada mette a segno due operazioni, i malviventi fermati in autostrada, bloccati tre napoletani armati a bordo di una vettura rubata e un ladro di rame con il carico, i primi tre scoperti con i coltelli stavano forse organizzando un colpo nella zona. I abbattipaglia, gara di solidarietà per aiutare Natalino, ancora grave il giovane aggredito sulla Versana, ma c'è chi aiuta i genitori. Per le notizie del Cilento, Vallo di Diano, a Pollica, investito, 21enne, muore negli USA, giovane cilentano travolto da due auto a Washington, mentre torna dal lavoro, preso in pieno da due mezzi, il primo è un'auto pirata, ancora incerta la dinamica, la polizia ferma un uomo, ma forse è il soccorritore, ora si cercano i colpevoli. A Montanantiglia vende marioana nel bar, arrestato un pusher 52enne, mentre a Montecolvino Pugliano cerca funghi e si ferisce, ritrovato dopo 24 ore. Andiamo avanti di spalla, Cerno, strada interrotta dalla frana, i grillini attaccano la regione, mentre per Teggiano il Tar boccia l'opposizione, Cimino vince e resta sindaco. Rocco Cimino resta sindaco, lo ha deciso il Tar di Salerno, che ha respinto il ricorso presentato dall'opposizione da alcuni candidati nella lista Teggiano va avanti, che nelle ultime elezioni ha sfidato proprio la lista di Cimino, quest'ultimo aveva vinto con una notevole differenza. Il ricorso si basava su presunte irregolarità nella presentazione della lista di Cimino, il Tar di Salerno però ha respinto il ricorso e confermato Cimino alla guida della città-museo del Vallo di Diano. Siamo soddisfatti per questa sentenza, commenta l'Aggiunta, è stato rispettato il volere del popolo. Lasciamo le pagine del quotidiano il mattino, andiamo ora invece a sfogliare il quotidiano Metropolis che apre con l'inaugurazione ieri di luci d'artista a Salerno, vediamo De Luca, luci e processo, questo è il titolo per Metropolis, crescent il sindaco rinviato a giudizio insieme ad altri 22, tra politici e tecnici la notizia, mentre accende le luminarie ai fedelissimi insieme per la Regione. Andiamo avanti, sempre Salerno, il PM dice no a Scarano, non sarà interrogato per la cronaca, traffico di Ascish arrestati in quattro, il carico era destinato alla Movida, sequestrati 20 kg di stupefacenti. A Scafati, truffa all'Inps, due patteggiano, mentre per l'aeroporto, l'abbiamo visto anche dalle pagine del mattino, Canfora in fuga, no ha i debiti, taglia le partecipate con i debiti, l'aeroporto non è la priorità, parole del nuovo Presidente della provincia Canfora. Di spalla, Scafati Nocera, accuse contro il RAS, 5 falsi testimoni, Nocera cava, droga nella capitale, due giovani in manette, per il problema a maltempo, agro Nocerino Sarnese in ginocchio, allagamenti e danni, il fiume Sarno è straripato a Scafati e a Pagani è stato deciso lo stop al mercato. Spostiamoci di taglio basso, vediamo come chiude questa prima pagina di Metropolis, Cava dei Tireni, sfiducia al Sindaco Galdi, mancano solo due firme. A Pagani, Multiservice, salvi 26 operai, nuova società del Comune e la Salernitana, quindi lo sport, la giornata granata per riprendersi la Rechia, avanti tutta, pure senza attaccanti, la Salernitana che dà l'assalto al Catanzaro è pronta a stringere l'anima, tra i denti ritrova analini e gabionetta, ma per entrambi, nella migliore delle ipotesi, ci sarà spazio solo in corso d'opera. Questa è la prima pagina di Metropolis, ora andiamo nelle pagine dedicate alle notizie provenienti dalla provincia di Salerno, la cronaca in apertura, giro di prostituzione, preso l'ultimo latitante, scacco alla banda e stradato dalla Romania il 28enne Lucian Lonell per l'accusa con nazionali sfruttate e pizzo da 150 euro al giorno. Era sfuggito al Blitz dello scorso aprile sulla Litorania il sesso a pagamento, la base operativa a Santa Cecilia di Eboli. A centro pagina, Montano Antiglio, Mariana servita al bar, finisce in manette il titolare dell'esercizio, la droga nascosta tra tazzine e bottiglie. Ponte Cagnano, bimbi in una sola aula, scusate, in bianchini a scuola, è odore nauseante, protestano le mamme, è imbarazzante. Intanto ad Auletta vediamo, dopo un anno dalla frana resta ancora il pericolo, proprio nulla è stato fatto, ad un anno dalla frana nel tratto della strada statale 19 ricadente nel comune di Auletta e alle soglie di una nuova stagione invernale, nuovo appello alle istituzioni da parte dei cittadini stanchi di rimanere inascoltati, hanno inviato una lettera indirizzata tra gli altri al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, alla Regione Campania, all'ANAS, ai sindaci dei comuni di Auletta, Pertosa, Polla, Petina e Sicignano degli Alburni. Siamo costretti a denunciare l'incomprensibile ritardo nel ripristino della SS 19 delle Calabrie che dallo scorso gennaio risulta impraticabile. Andiamo di spalla, Montecorvino cade nel burrone, salvato un 66enne Capaccio, allagamenti, rilievi per i risarcimento e a stanza ieri l'ultimo saluto a Goffredo Ferrarese, il ragazzo morto a seguito di un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale tra Trinità e Padula. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, riprenderemo tra pochissimo con la seconda parte della nostra segna stampa. Bentornati alla seconda parte della nostra segna stampa, sfogliamo le pagine del quotidiano La Città che apre con l'inaugurazione della Kermesso Lucida Artista ma anche con il rivio a giudizio per il Crescent di Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, infatti il titolo Crescent De Luca sarà processato, a giudizio anche tecnici e costruttori l'edificio verrà abbassato. E nella fotonotizia invece l'accensione delle luci, testimonial partenopei per l'accensione delle luci d'artista dalla villa comunale a Mercatello c'era Maurizio Casagrande, Tullio d'Episcopo e Lino D'Angio accanto a Vincenzo De Luca quando ieri alle 17.20 ha dato il via all'edizione 2014-2015 dei luci d'artista, poi il tour dalla villa comunale fino a Mariconda. A centropagina avanti anche senza il PD, regione il sindaco di Salerno riunisce fedelissimi e detta la linea. Centropagina ancora società di gestione aeroporto, Ilardi nominato presidente e crescono intanto le aziende, segnali di ripresa per l'economia locale. Vediamo le notizie di spalla, cronaca, polizia blocca il carico di droga, quattro arresti a Fratte, Vallo della Lucania, Mastro Giovanni, per i medici al via all'appello, morì legato ad un letto e a Cava dei Tirreni, sfiducia a Galdi e il giorno di Forza Italia. Per lo sport c'è da riconquistare la Rechi, Salernitana all'assalto del Catanzaro sotto gli occhi di Lotito. A Napoli, mercato rivalutato, Caeon in nazionale. Per la Cavese, invece, Lamberti, Fortino dell'11, bianco-blu. Questa è la prima pagina del quotidiano della città. Ora andiamo sulle pagine di Salerno. Si apre con il rinvio a giudizio per il sindaco Vincenzo De Luca. Vediamo grandi opere e giustizia. Arriva l'inchiesta, De Luca ha processo per il Crescent. Disposto il rinvio a giudizio anche per altre 21 persone. Il sindaco ha suono sereno o agito solo nell'interesse della città. Gli articoli correlati per la scheda, tecnici e costruttori tra gli imputati. Ancora i cittadini hanno il diritto di sapere se sono stati commessi dei reati. Di spalla l'autorizzazione. Il comune vara il nuovo parere, edificio tagliato di 50 centimetri. Andiamo avanti, restiamo sempre a Salerno, ma andiamo sulla festa per l'accensione di luci d'artista di questo prossimo Natale. Vediamo tra tifo e cabaret lo start dedicato al popolo di Napoli. Sul palco con De Luca, la mamma di Ciro Esposito, ma in città è mancata la folla delle grandi occasioni. L'orologio segna i 17.20 quando De Luca dà il via al vernissage dell'edizione 2014-2015 di luci d'artista. E ancora l'itinerario, nessun brindisi in piazza Flavio Gioia. Lasciamo anche questa pagina del quotidiano della città. Andiamo avanti, andiamo in Basilicata con la nuova del sud. La prima pagina, vediamo i comitanittini hanno già vinto. Petrolio e nuove trivelle, mobilitazione a potenza contro lo sblocca Italia. Pittella annulla l'incontro con Speranza. Gli articoli correlati, la piazza, ambientalisti e opposizione fanno sentire la protesta. Ancora governatore e parlamentari PD si ritrovano da Lega Copp. Continuiamo comuni d'assalto, Sasso e una ventina di paesi in trincea contro lo sblocca Italia. Sempre di taglio alto, niente populismi, il petrolio e ricchezza si è speso bene. Ancora popolari, Udc e Nuovo Centrodestra saranno un partito unico e sempre e dal nazionale, da Berlusconi a Renzi, politici lucani scendiletto. A centro pagina, nella fotonotizia, rivelazione shock, trovò il corpo di Elisa e scappò via. Stiamo parlando del caso Claps. Ancora Visco e Banca Italia, il Pille è calato in Basilicata per la criminalità. Per lo sport, Lega Pro c'è una regina in difficoltà tra il Melfi e la prima vittoria stagionale in campo alle 17. In serie di potenza, non si placa la polemica, distanza tra i vertici societari presi tre under. Per il calcio A5 di serie A2, l'Avis riceve il lanciato Belvedere, l'Eraclea dopo il sì di Bommino gioca nel Lazio. Mentre per il basket, Bauer col vestito da sera, arriva a Legnano, due punti per allungare il buon momento. Questa è la prima pagina di La Nuova del Sud. Ora torniamo in Campania, andiamo sulla prima pagina di Cronache del Salernitano. Apertura e inaugurazione di luci d'artista, l'invio a giudizio per il sindaco De Luca. Anche Cronache del Salernitano si occupa in apertura dell'argomento e vediamo luci a mezz'asta. Crescent, la notizia del processo a De Luca, arriva durante l'inaugurazione della manifestazione a giudizio per falso ideologico, abuso d'ufficio e lottizzazione abusiva con altre 21 persone. Intanto le luminarie 2014 vengono accese nella notte della politica deluchiana e dell'economia della città. Per il Crescent, prima udienza il 23 dicembre. Andiamo avanti, altra tegola per il sindaco annuncia le sue tre liste alle regionali ma il PD si accorda con Udc e Nuovo Centrodestra sul nome di Enzo Amendola. A centro pagina, droga, arrestati Franceschelli e Nisi. Due salernitani stavano comprando hashish da due marocchini nell'agronocerino sarnese. Per lo sport salernitana è tempo di espugnare la Rechi, scontro diretto con il Catanzaro sull'orlo di una crisi recuperati Gabbionetta e Enalini. Si inizia alle ore 15. Questa è la prima pagina di cronache del salernitano. Restiamo sullo stesso quotidiano. Vediamo le notizie di Sud Salerno. Si apre con il decreto sblocchettale e con l'annunciata autosospensione dal Partito Democratico del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Raffaele Accetta, Sindaco di Monte San Giacomo. Vediamo il titolo. PD no alle trivellazioni, l'approvazione del decreto. Accetta si è autosospeso. L'appello ripensaci la solidarietà al Sindaco di Monte San Giacomo e Presidente della Comunità Montana. Contro l'atto del Governo Renzi, la levata di scudi degli amministratori PD valdianesi martedì ennesimo vertice del Partito Democratico. E intanto ad Atena Lucana, oggi alle 15 all'auditorium, il comitato no al petrolio. Nuovo incontro. Andiamo a centropagina. Polla, il manager Aslo Squillante, nel mirino della CGL, discrimina l'ospedale Luigi Curto, duro a fondo del sindacato. La sanità valdianese può essere paragonata ad un paziente che è versa in gravi condizioni e per il quale si attende solo il decesso. A Teggiano e innovazione da oggi si può, si deve. Un convegno targato Banca Montepruno, protocolli con Confindustria e Università di Salerno. Ieri l'incontro. Andiamo di spalla. Frana di Auletta, niente interventi. La rabbia e la petizione dei cittadini. A Polla, morte la vegna, giudizio per due medici e quattro infermieri. Sempre a Polla, la cronaca, travolge un cane sull'autostrada a tre, tamponamento, un ferito. Mentre a Petina, rame rubato in auto, due denunciati dai carabinieri. Di taglio basso, ieri a Sanza, i funerali di Goffredo Ferrarese, il giovane di Sanza morto a seguito di un incidente sulla strada statale 19 tra Trinità e Padula. Vediamo Folla, i funerali del 38enne Goffredo Ferrarese, l'incidente sulla SS19. E su questa pagina termina la nostra segna stampa. Vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro Tg. Grazie per averci seguito e auguro a tutti una buona giornata.